E perché il Parco regionale dei Colliugani ha deciso di fare questa proposta ai ragazzi delle scuole? Abbiamo ritenuto fondamentale avere tra i nostri attori principali e propositori i ragazzi. Pensiamo che il consiglio dei ragazzi possa essere un vero stimolo per noi adulti per avere un punto di vista diverso. I ragazzi sono propulsori efficacissimi per quanto riguarda la promozione del territorio e lo vediamo nell'esperienza dell'educazione ambientale che svolgiamo a Casa Marina. Ma soprattutto sono attenti e più sensibili e mentalmente direi meno inquinati politicamente e proprio per esperienze vissute su quelle che possono essere delle proposte innovative per vivere questo territorio. Questo progetto ha impiegato quasi due anni per costruire il consiglio dei ragazzi per il parco. Pensa sia stato importante questo passaggio? Come tutte le migliori costruzioni si parte dalle fondamenta solide. Abbiamo creato innanzitutto, sensibilizzato direi i ragazzi su quella che è la responsabilità che sono portati a compiere quando arrivano al parco e partecipano a un consiglio. Sono stati democraticamente eletti dai loro compagni e quindi chi parteciperà al consiglio avrà la responsabilità di farsi portavoce di altri compagni. Ma soprattutto abbiamo dedicato questo tempo per costruire conoscenza di un territorio che effettivamente, ci siamo accorti, non era ancora entrato dentro di loro fino in fondo. Da Monsirici un'adesione in massa al progetto, cercasi consigli per i ragazzi, per il parco? Sì, hanno aderito tutte le scuole, tutte le scuole medie, sia paritarie che pubbliche. Mi fa molto piacere perché vuol dire che il progetto proposto dal parco è stato accettato da tutti i dirigenti e penso sia molto importante far conoscere e far crescere i nostri ragazzi responsabilmente, che sappiano cos'è il parco Colli, come viene gestito e che possono dare anche loro, nel loro picco, i loro suggerimenti per migliorare la vivibilità, per migliorare il nostro parco e per farlo vivere più intensamente.